Ai tre campanini di Bogliasco si sfidano Sampdoria-Milan, match valevole per la quattordicesima giornata della Serie A femminile team. Mascarello. Dentro il pallone morbido per Goscia che arriva con il piattone, trova il terzo gol in questo campionato. Milan subito in avanti, Sampdoria 0, Milan 1, la rete di Mejazz. Su un angolo di Mascarello arriva una deviazione di Adami, la palla transita nella zona di Mejazz e arriva la firma rosso-nera, la terza in questo campionato del difensore numero 25 del Milan, Goscia Mejazz. Mejazz, l'autrice del gol, il terzo in questo campionato. Palla in profondità perfetta per Tomá, Tomá dentro l'aria, prova il pallonetto, traversa e poi pallone che si spegne sul fondo. Questa grande palla in verticale di Mejazz per Tomá che non ci pensa due volte, tenta il pallonetto con Odené in uscita. La palla arriva nella zona di Fusetti che rimette dietro per Bergamaschi, guarda la porta, prova a calciare. Palla però che finisce lentamente sul fondo alla destra della porta difesa dall'estremo difensore Brucerchiato. Scarica per Mascarello, bravissima Mascarello da allargare per Vigilucci. Vigilucci si mette la palla sul destro, cerca un cross interessante che arriva nella zona di Aslani. Poi Piemonte al volo, Odené le nega la gioia del gol con una grandissima prudezza. Milan vicinissimo allo 0-2 con questo gran tiro di Piemonte che si coordina alla perfezione. Piemonte mette fuori con Pettenuzzo, triangolo mobile riuscito. Sbaglia qui Panzeri, perde la palla, poi travolge Bergamaschi e arriva il calcio di rigore per il Milan al minuto numero 34. Che ingenuità di Panzeri che perde la palla e poi la travolge appena dentro l'aria. L'arbitro era lì da pochi passi, non poteva... Errori che possono capitare, specialmente se si gioca in difesa con tante situazioni ad alta tensione. Tutto pronto, Aslani contro Odené. Aslani! Palla all'angolino e raddoppio Milan al minuto numero 34. Sampdoria 0-0, Milan 2. L'ottavo gol in questo campionato di Aslani. Il rigore procurato da Bergamaschi, travolta dentro l'aria da Panzeri. La quale commette una grande ingenuità perché perde il pallone e poi fa fallo su Bergamaschi. Cerca di innescare Fallico che scambia bene con Cuschieri. Di nuovo per Prugna che prende la mira, va con il destro. Conclusione però imprecisa che si spegne contro i cartelloni pubblicitari. Tutto pronto, va Rincon con il destro. Va Rincon! Giuliani gli dice di no! Toma! Dubkova scambia con Mascarello che trova dentro l'aria Bergamaschi. Bergamaschi, Bergamaschi, la palla sul destro! E arriva qui il punto esclamativo del Milan con Bergamaschi, il capitano rosso-nero che trova il 3-0 al minuto numero 88. L'azione è insistita da parte del numero 7, rosso-nero. Il giocatore del Milan numero 7, brava a proporsi dentro l'aria, a resistere alla carica di Giordano Egagò e a trovare il gol all'angolino, trafingendo per la terza volta Hudden. Trafingendo per la terza volta Hudden. Infatti non c'è più tempo, dice che può bastare così l'arbitro, finisce qui ai tre campanini di Bogliasco. Il Milan batte per 3-0 la Sampdoria. Grazie.